Da domani, venerdì 6 agosto, sarà obbligatorio essere in possesso del Green Pass per accedere a una serie di luoghi dove c'è il rischio che si creino sembramenti. Il certificato attesta di aver ricevuto almeno una dose di vaccino da 15 giorni, di essere risultati negativi a un tampone nelle 48 ore precedenti o di essere guariti dal Covid da meno di 6 mesi. Mentre si discute in queste ore sulle modalità di controllo, l'imposizione adottata dal governo ha provocato un aumento delle richieste di vaccino. Nelle Marche sono partiti anche camper per raggiungere le zone montane e quelle più disagiate. Nell'area Vassa 1, il mezzo oggi, si trova a Monte Copiolo, però, come spiega Eugenio Carlotti, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azur, la partecipazione dei cittadini è discreta, ma non eccezionale. Circa 30 vaccini a mattinata. Gli orari sono dalle 9 alle 12. Sono state programmate tutte le tappe della prima quindicina di agosto che riguardano i piccoli comuni dell'Alto Montefeltro, con più basse percentuali di copertura vaccinale. Sono state tutte tutte programmate. Oltre a queste date, anticipo che molto probabilmente il 10 martedì prossimo, in occasione della cosiddetta festa delle candele a Pesaro, attiveremo un punto di vaccinazione mobile presso la Pala di Pomodoro, aperto dalle 18 alle 22, sia per attirare giovani, in particolare che è il nostro target principale, sia per dare un messaggio contestuale proprio alla festa, nella quale, come abbiamo stamattina discusso in Prefettura, sarà obbligatorio da domani, l'uva per tutti, esibire il Green Pass in questo evento, che è un evento assimilabile a una sagra, per cui chiunque vorrà accedere lungo i 6 o 7 chilometri della festa dovrà essere in possesso di una delle tre possibili certificazioni verdi. L'iniziativa del camper, ricorda Carlotti, ha l'obiettivo di intercettare gli over 60 e i giovani, in particolare quelli nella fascia che va dai 12 ai 30 anni. Vengono somministrate soltanto le prime dosi e quindi non vengono fatti richiami. Probabilmente, ha proseguito il direttore, più avanti si passerà alle seconde dosi con la stessa modalità itinerante. I vaccini che saranno utilizzati sono il Janssen monodose, al di sopra dei 60 anni, proprio perché per chi non ha ancora avuto la somministrazione del vaccino, la monodose che non necessita di richiamo potrebbe costituire un incentivo ulteriore per sottoporsi alla vaccinazione. Mentre sotto i 60 utilizzeremo o Moderna o Pfizer. Abbiamo iniziato con Moderna perché eravamo in carenza di Pfizer. È stata data anche qualche altra indicazione in particolare durante questa riunione per gli eventi che si svolgeranno nel mese di agosto? L'obbligo del Green Pass ovviamente varrà da domani in poi. Ci attendiamo soprattutto dal Ministero della Salute o dal Ministero dell'Interno o da entrambi delle indicazioni, delle linee guida su chi dovrà gestire i controlli. Perché l'obbligo c'è, il decreto lo ha sancito, però non è ancora chiaro se ad esempio deve essere il ristoratore o il titolare dell'esercizio presso il quale si rega il cittadino vaccinato con il certificato che deve controllare il possesso del Green Pass. Tutto questo ovviamente si ripercuoterà nei vari eventi che da adesso in poi si susseguono sia nel peserese che nel fanese. Mi riferisco anche in particolare alle due grandi fire di San Bartolomeo a Fano e di San Nicola a Pesaro che sarà un oggetto di riunioni specifiche in prefettura e nelle quali ovviamente tutto ciò che ho appena detto rispetto alla festa delle candele sarà ugualmente valido.